morena e qui insieme a noi visibile nel suo schermo ciao monica ciao sempre chapeau a chi se ne sbatte le balle ci mette il viso 5 4 3 2 1 dimmi come la vedi la vedo che è pettinata con una riga centrale i codini e con un ciupa ciups in bocca come ci dicevi durante i punti lolita ok lolita cos'è una vita precedente un'entità mentale il progetto allora al momento poi magari durante la sessione viene fuori di più vedo sia una vita precedente impostata in questo modo nel senso proprio che lei è minorenne e ha una storia con un uomo circa 30 anni più grandi di lei vedo che questa vita passata ha avuto degli influssi trasversali sulla vita attuale e vedo che è anche uno degli ingredienti delle sue entità mentali e del suo progetto va bene portiamo con ordine vediamo la vibrazione 15 miliardi consapevolezza 150 per cento psp ps37 vite precedenti 1541 cervello 7.3 allora di dati un po strani ma buona vibrazione volendo più che buona più che buona consapevolezza pochissima ps poca ps aia questo non deve avvenire però perché io non posso metterlo lui nel video è apparso il bambino e io adesso devo censurarlo se no ci sono tutto il video e video a moreno vite precedenti norma basso cervello 7,3 no entità eteriche un coccodrillo mescolato un po a una tartaruga direi un anfibio rettile giaguaro è un personaggio che sembra il principe azzurro e poi è lucifero perché vedo che gli calano giù gli abiti azzurri e rimane lucifero basta secondo universo quindi gli anfibio rettile felinoide se non sono me ne presenta altre edl io ne vedo 5 entità mentali prima volta che le analizziamo con morena me ne mostra 3 mi fa vedere la prima che praticamente sono livello 3 5 7 e mi mostra per prima la livello 5 che è come se fosse la in un certo senso la più importante è la generatrice di entrambe si chiama buco nero non il nostro buco nero no un buco nero energetico si fa riferimento anche diciamo così a tutte le sue paure, a ciò che ha timore di affrontare direttamente rispetto per esempio anche alla deviazione, alla malattia mentale in cui teme di cadere, una possibile depressione, varie sfumature di patologie mentali è una cosa che lei non vuole affrontare perché teme molto e ha paura di poterne in qualche modo esserne coinvolta come se ci fosse in lei una componente ereditaria e teme questo su di sé oltre che poi averla vissuta sulla propria pelle la madre l'esperienza della madre quindi ha vissuto sulla propria pelle l'esperienza di cosa vuol dire stare a contatto con una donna che ha una malattia mentale e ha paura di averne acquisito quasi il gene, la predisposizione l'ereditarietà ok, poi? quindi da questo buco nero si irradiano le altre due e mi fa vedere in un livello 3 mi mostra un piatto una portata che è un pasticcio di pasta e mi fa vedere questa questa pasta con tanti ingredienti pasticciati proprio no mescolati gli uni e gli altri un po' il classico svuota a frigorifero e quindi mi fa vedere questa molteplicità di esperienze questo gran pasticcio la pasta al forno non la lasagna la pasta al forno ma questa volendo ok ma su che fronte in tutti i fronti più mi fa vedere siccome è una ruota tutto quanto intorno all'affettività questa entità mentali perché parte appunto da questo buco nero l'abbiamo appena trattato no? dalla figura principale della sua vita comunque che è la madre ok? poi si irradiano tutte le altre esperienze e quindi questo pasticcio e soprattutto mi fa vedere a livello sentimentale ha accumulato tantissime esperienze alcune si chiede anche lei perché mai poteva evitarle un ingrediente superfluo mi fa vedere alcuni ingredienti anche troppo calorici altri anche avariati mi fa vedere non so come in scadenza altri sfiziosi sì ma un esperimento così no? tutto questo insieme un mischione e poi c'è lì e l'altro c'è l'altro subalterno 7 sì che però è un po' paradossale però no no c'è nasce dalla non è gerarchica la cosa 7 bene nome il principale che è appunto la volontà di trovare questo uomo che magari lei in questo momento definisce fiamma no? ma che ne è salvatore salvatore principe azzurro aspetto protettore in casi angelo custode potrebbe avere varia non so se ci pensate è colui che ti salva che ti solleva dal lavoro no prende la prende la ragazza la carica sul cavallo la porta via la salva la salva la frega perché essere salvati cioè non fare nessun tipo di lavoro su di sé a di là della favola è proprio la fregatura più totale se vuoi il principio azzurro è anche un'entità al di là del fatto che qui ho un'entità mentale e l'abbè vista come entità eterica era lucifero vestito da il principio azzurro giusto chiamiamolo lucifero anche tanto che non lo vediamo eh guarda che subito si sta rivolgendo a morena quanto ti piaccio io lux chiama luxfero quanto ti piaccio quanto ti piaccio come lo vedi oggettivamente bellissimo ti devo dire la verità molto scolpito fisicamente in particolar modo lo vedo impettito che sporge il petto sai no a voler essere anche un po' sbruffone arrogante come a sentire proprio che ha il dominio su su morena va bene come vedi il giaguaro come si può dire un po' un po' bifido perché da una parte lo vedo selvatico no e e mi parla del suo eco villaggio quindi qualcosa legato alla natura legate alle origini al principio della vita così no però dall'altra accanto a questa genuinità nasconde un qualcosa di molto feroce subdolo l'eco villaggio o il giaguaro giaguaro no non ho capito il soggetto chi nasconde qualcosa di subito eh no mi hai fatto una domanda che mi aspetta che sto cercando la risposta perché sì è il giaguaro la risposta però per certi aspetti l'eco villaggio in modo meno intenso sì anche ecco villaggio ok partiamo da quello causa esoterica del delle grosse difficoltà riguardanti l'eco villaggio è vero insomma nella matrix ci sono le difficoltà poi come dire è un progetto ambizioso che se dovesse avere successo potrebbe diventare ad esempio per tanti altri d'altro canto quando le cose funzionano non funzionano vanno da sole anche questo è abbastanza vero allora di nuovo mi riconduce un po' a tutta la sua faccenda relazionale sentimentale il marito in qualche modo forse non del tutto diretto rema contro perché lo vede come una minaccia il loro rapporto per la facilità di incontri per il come dirti la libertà no? così e poi come se queste sue entità mentali tutte quelle che lei ha andassero a rallentare la parte buona e positiva di questo progetto e andassero invece a caricare su quelli che sono gli aspetti più deficitari più deboli come se lei avesse un po' difficile da spiegare come se diventasse uno spunto questo ecovillaggio per certi punti di vista scusa è per anche una fonte di nutrimento delle sue entità mentali anche un approvvigionamento quindi la causa esoterica delle difficoltà volendo è multipla si fallo però ancora prima una pulizia esatto sia degli intenti del progetto sia delle caratteristiche del progetto sia di te stessa questo vuole dire la rps perché così poca allora qua mi dice nel suo caso mi fa vedere come proprio la ps sia l'energia molto femminile e la p e quella maschile essendoci proprio questa difficoltà possibilità comunicativa di base con la madre la ps è un po' soffocata è come anche un po' tenuta sotto un cuscino come se non potesse esprimersi completamente è come se poi appunto lei avesse delegato alla pie dentro di sé e all'esterno avesse delegato agli uomini la risoluzione dei suoi problemi e lo svolgimento della sua vita ok chiamiamola la madre che è viva con il padre i due figli il marito e l'ex quello di cui ci ha parlato mi sape che ne vengono diversi no vabbè tutti quelli che vengono 10 adesso dobbiamo creare un multisala non cinema del sé è un multisala questo eh sì sono tanti sì eh vai adesso dicono siamo 10 ok e anche quello di cui ci ha parlato viene o no è un po' offeso un po' ferito un po' e non viene 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 quindi 10 ex per me possono bastare non possono bastare non possono bastare va bene chi è il più interessato o interessata allora è il marito ma perché c'ha questa ansia di perderla questa voler volontà di tenersela al proprio fianco a tutti i costi allora crede che conoscendo eh anche questi aspetti di lei avrà la possibilità di non perderla che poi questo marito qua se non avesse tutte queste ansie potrebbe anche fare un lavoro interessante su di sé ma in lui c'è proprio un livello di dipendenza affettiva e anche di masochismo molto elevato vedo nove masochismo affettivo nove in lui ma entità mentale a sopportare tutto cosa che ha già fatto di fatto è ancora che ancora fa nove nove la dieci non c'è come entità mentale c'è come autodistruzione la dice l'autodistruzione ovviamente le nove top of the year quindi potrebbe ma con una nove meglio di uscire una nove impossibile abbassa da soli abbassarla volendo sennò impossibile non è vero molto difficile abbassarla un gran bel lavoro d'altro canto morena una sette senti ma poi mi sembra quasi che a volte c'è l'ansia per lui per lui di tutta questa anche frustrazione affettiva che è forte c'è quasi mi faccia venire voglia di perdere la vita perché è tanto forte va bene io credo che l'argomento fiamma in questo caso sia assolutamente molto lontano esiste una fiamma in questo momento è l'ex o è uno degli ex è il marito curiosa perché mi fa vedere un'immagine mi fa vedere un fuoco di fiamma che va dentro l'acqua del mare sprofonda e rimane e sul fondale quindi è un messa nel cassetto per il momento come decisamente obiettivo dell'anima non c'è nessuna fiamma grezza non c'è nessuna fiamma formata ci sono delle anime gemelle possibili sì probabilmente però vedi che io non vedo livelli alti di fiamma io non lo vedo ok quindi c'è un grosso lavoro da fare va bene e facendo questo lavoro allora possiamo anche lei può cambiare questo quindi possono essere anime gemelle di livello maggiore ma se no rimaniamo su due tendenzialmente due due o tre è un tre se vogliamo un po' tirato per i capelli per essere generosi due diciamo le cose come stanno va bene vibrazioni consapevolezze tutti i dati li abbiamo visti ci sono degli impianti è un elmo un elmo come impianto mentale me lo fa vedere proprio di questa struttura bella solida no forte questo è l'impianto mentale mi fa vedere i capezzoli seni però non so più capezzoli perché all'attamento sì poi proprio tutta una questione della sua femminilità cioè proprio l'essere donna l'essere madre e la sua capacità che in questo momento è incapacità di stare in coppia quindi quindi vengono prese proprio di mira gli elementi prettamente femminili perché mi fa vedere anche tipo un disco a livello genitale e i piedi i piedi le dita dei piedi perché per costruire costruire senza costruire mi dice costruire fittizio cioè lei crea la famiglia lei crea l'ecovillaggio ma senza avere la finalità di queste cioè sia la famiglia che l'ecovillaggio potrebbero essere due progetti importanti se davvero si accompagnano alla sua personale evoluzione ma non c'è questo c'è solo la creazione di figli un marito al proprio fianco un ecovillaggio senza questo supporto qua che è quello fondamentale che è la benzina fondamentale ed è il progredire l'evolversi dell'anima in effetti lei in effetti lei si chiede in cosa deve ancora lavorare su di sé possiamo dire tutto si parte da questo buco nero questo buco nero lei lo deve affrontare analizziamo le queste entità mentali qui sono tutte entità mentali ed è singolare la gerarchia in questo caso di un'entità mentale media che partorisce l'entità mentale più bassa e la più alta l'alta non è proprio uno scherzo principe azzurro picchiaduro 7 perché questa struttura e non semplicemente un elenco di tre entità mentali come sempre abbiamo visto finora per vedere la mamma che genera figli i figli che genera possono essere a volte più deboli a volte più forti a volte possono sviluppare maggiormente le caratteristiche della madre possono prendere delle deviazioni mi rimanda questa vicenda qua la madre che genera la madre come generatrice di tutto è un'entità mentale collettiva questo come la vedi mi fa vedere mater me la fa vedere come sai tipo cupola di San Pietro fa vedere effettivamente la madre anche intesa così in senso cattolico religioso madre madonna madre mater famiglia e nel caso specifico di Morena c'è stata un po' una deviazione perché la madre non ha potuto rivestire questo ruolo così forte così potente fa vedere infatti come il padre ha dovuto sopperire a tutta una serie di questioni dove la madre non poteva arrivare essendo molto bloccata dalla malattia che ha scelto personalmente di avere va bene un po' di domande veloci sofferenza in amore chiesta dal marito una sorta di maledizione cause esoteriche guarda non capita spesso che gli ospiti dei cinema ci facciano vedere una propria personale entità mentale in questo caso è accaduto che lui mi ha fatto vedere nove masochismo affettivo e quindi che si esprime anche in questi oltre che nel sopportare ogni tipo di chiamiamola cattiveria chiamiamola frustrazione da parte di morena ma in realtà io penso che per carità io non voglio dire che morena sia interscambiabile per lui però è proprio una sua problematica per cui forse si sarebbe comportato così anche con un'altra donna e quindi non solo lui subisce ma in qualche modo utilizza come strumento questa la maledizione ma fa sempre parte di questa sua entità mentale ecco questa maledizione che in teoria per lui serve per come un legamento d'amore per legare a filo doppio morena se dove affonda analizzando a lei morena ovviamente questo legame tra i due tornano sempre insieme litigano e tornano insieme allora la vita precedente a cui lei aveva accennato un'altra medium l'ha vista come loro due gay in una relazione si ok ma non la vedo così significativa a questo fine vedo più significative la vita Lolita in cui lei era un'adolescente 15 6 vabbè un'età così tra i 14 e i 16 anni e vedo appunto che si lega quest'uomo che è veramente una trentina abbondante di anni in più e vedo che sì è vero che per alcuni aspetti lei si è affezionata a quest'uomo e l'ha voluto perché incarnava un po' la figura paterna perché le risolveva una serie di problematiche anche emotive ma poi vedo che quando lei è cresciuta un pochettino è diventata un po' più donna l'ha lasciato ma proprio dall'oggi al domani dall'uomo dell'epoca era il marito di oggi l'olita è anche una identità mentale collettiva lolita assolutamente sì chi c'è dietro lolita mentale identità mentale che è interessante no sava san dir che c'è poi tutto il discorso che no parola proibita perché non si può dire si sapega purtroppo così sì sì di nuovo il secondo universo no ecco che li vedo un po' tutti vedo Poseidone Moloch c'è Lucifero c'è Satana tutti intorno che fanno come un cerchio stretto in mezzo di bambini bambini proprio bambini come una specie di rosa vanno a costituire questi bambini per cui vedo nei tetali più esterni diciamo delle ragazzine dei 12 anni però comunque minorenni e invece al centro nella corolla c'è un neonato e mi mostrano come la favola archetipo della Lolita passata attraverso canzoni passata attraverso film passata attraverso libri era quello che introduttivo che poteva essere accettato dalla società come introduzione come predio per arrivare al neonato questa rappresenta dell'adulto dal dalla ragazzina perché la Francia è molto legata a questo concetto di Lolita il film francese c'è stata poi una canzone pop di una ragazzina a Lolita diceva tutti mi guardano nel locale tutti gli occhi sono su di me io Lolita ipotizzo quindi che lei si è andata in una discoteca di adulti certo perché altrimenti non si definirà bene Lolita perché la Francia e non la Germania Italia gli Stati Uniti la Cambogia allora aspettano adesso mi vengono qua ma io posso fare i nomi dei personaggi famosi che mi vengono ma sì che ti frega adesso qua mi è venuta per esempio Vanessa Paradis e Johnny Depp allora onestamente è come se io non è che conosco tanto le provenienze dei due ma è come se mi desse una fusione di Francia America ed è come appunto se questo progetto provenisse dall'America satanista e fosse mi fa vedere come un'ape che va a impollinare un fiore in Francia quindi c'è questa unione di America e Francia mi porta a Notre Dame mi porta a tutti i sotterranei di Notre Dame tanti bambini sotto i sotterranei fino anche a Versailles come sta Johnny? sulla fine sul finire di tutto sul finire della carriera sul finire dell'esaurimento del proprio esaurimento biologico ecco Vanessa come sta? no neanche lei la vedo proprio smagrita come diciamo che molte star e anche giornaliste ma io li faccio i nomi perché vengono tutte non bevono più a Dino Como no Lily Gruber ah la Lily che bella Mirta Merlino Marta Mirta Merlino e Angelina Jolie è venuta Céline Dion madonna madonna è sempre lei o un clone? allora io vedo una madonna rachitica ah no no quella lì che vediamo no non è lei assolutamente rachitica cioè che non può quasi alzarsi no di questa magrezza spaventosa e noi vediamo cloni attrici non è poi sempre lo stesso secondo me poi aspetta mi viene anche oh santo Dio la moglie di Macron a proposito di il moglio di Macron si va beh eccetera eccetera ok torniamo torniamo con Morena e Monica quando ci sei connettiti con il nascituo al nascituo mi so mi dice maschio comunque e dunque è molto importante che Morena abbia fatto la sessione adesso perché dà proprio la possibilità a questa creatura di nascere in una luce in un'energia diversa molto più pulita molto più leggera molto più sgombra da tutto questo passato da tutta questa pesantezza di entità mentali ed eteriche io sento proprio il profondo ringraziamento di questa creatura alla sua mamma ci sono già visti in altre vite mi fa vedere una vita appena precedente in cui allora aspetta perché era l'inverso allora mi fa vedere il bambino che è la madre sul letto di morte e mi fa vedere Morena che gli stringe la mano quindi lei è la figlia e che si fanno una sorta di promessa di andare a invertire i ruoli e andando a invertire i ruoli di ripulire il loro passato messaggio più diretto anche a padre allora devo dire che non lo so se questa coppia riuscirà a rimanere in piedi con la nascita di questo figlio vedo Morena che acquista una consapevolezza diversa non lo so sai se questa coppia dura ma vedo che ci sono degli ottimi presupposti per questa creatura di crescere in maniera serena perché mi mostra Morena che riuscirà a dare un'impronta anche più pulita all'ecovillaggio e quindi un bambino che avrà un'opportunità di vita di esistenza molto ricca sia come relazioni umane sia come rapporto con la natura vedo un bellissimo rapporto tra il bambino e la mamma è proprio allora una nascita per entrambi sai è un maschio allora lui mi fa vedere che è maschio però in effetti mi ha fatto vedere questo scena ambiguo sì beh Morena non lo sa a me sembra un maschio io vedo un maschio cioè non vedo la femmina vedo il maschio però non è così importante alla fine se in sessione vediamo il sesso oppure non il senso poi ce lo fa sapere poi vedo un bambino quei capelli neri non so non ne avrà probabilmente neri lo vedo un bambino ma bene va bene donna materna portale aureo anche questo non l'abbiamo fatto nelle vecchie sessioni di Morena tutti i disincarnati di tutte le generazioni di Morena e palco microfono alla nonna materna quella che più a cui più lei era legata dolce bambina mia dice vedo che ha proprio una modalità come a rapportarsi con una bambina mi mostra una culla con tutti i pizzi come se la volesse rimettere lì dentro in culla come a ricominciare un po' tutto da capo ti ho voluto tanto bene avrei voluto vederti davvero bambina che non hai potuto essere bambina eppure io te e tua madre ci siamo messe d'accordo così mi fa vedere Morena bambina dentro la culla e la nonna materna da un lato e la madre di Morena dall'altro lato diamole una Vic vediamo cosa fa ma dice belli giochi di noi donne belli giochi di noi donne e mentre dice questo la nonna vedo che è come se partissero delle idee da Morena per andare a potenziare il potere femminile suo personale e delle donne dell'ecovillaggio attraendo poi altre donne all'interno dell'ecovillaggio mi mostra come non so una proiezione futura mi fa vedere che tanto spazio è come se ne avesse dato la nonna con questa frase belli giochi di noi donne e poi adesso io sto seguendo la ps di Morena che mi fa vedere che nella sua vita ci sono stati fin troppi uomini e mi fa vedere come invece prenderà una decisione diversa che è quella di dare più spazio alle donne al loro autentico forte potere che in tutti i modi nel corso dei secoli è stato nascosto e soppresso mi fa vedere lei che riesce a comprendere per esempio il valore divino del ciclo mestruale della donna mi fa vedere che fa proprio come delle conferenze riguardo a quello di cui ci ha parlato prima sai riguardo ai contraccettivi più bizzarri che tentano di proporre alle donne mi fa vedere che fa parla anche dei dei pap test dei del papillomavirus il vaccino contro il papillomavirus vedo che approfondisce tutte queste tematiche aumentando la consapevolezza nelle donne molto interessante quanti sono i disincarnati a corsi 194 che chiamino altri parenti della linea di morena e nonno piace molto questo discorso a quelli dell'ecovillaggio mai tutti i parenti collegati si tutti i parenti di tutti siamo arrivati a migliaia c'è molta più sensibilità ricettività la voce corre veloce questi venusiani non lo fanno da chiamare i disincarnati e metterli in un portale aureo anzi questi ai venusiani servono è già va bene tutti nel portale aureo li salutiamo quanti sono un'ordine di idea 7000 ottimo messaggio finale della nonna hai già visto tutto vai in quella direzione bella 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 ti piace questa nonna e monica va bene chiudiamo il portale aureo e chiediamo a morena di andare al cluster vediamo che succede cosa c'è come lo fa se lo fa mi ha aperto il frigorifero sai con tutti gli ingredienti che avevamo visto prima nel pasticcio di pasta quindi il suo cluster me l'ha mostrato così un frigo anche tanto disordinato e anche con dei vecchi rimasugli che si sono attaccati alle pareti del frigorifero stai ammuffendosi creando vermi un caos dentro questo frigorifero vedo che lei chiude la porta di questo frigorifero fortissima lei senza bisogno di nessuno butta il frigorifero dentro il portale definitivo e con la stessa forza con cui aveva chiuso la porta del frigorifero chiude la porta del portale definitivo fantastico via anche il frigorifero per sicurezza sì sì e prima vera nuova creazione di morena 2.0 già per partire dalla pancia ad eternum pancione dal pancione che ancora un pagino inesistente però è qua è come se andasse tutto molto veloce quindi già lei mi fa vedere la pancia più avanti la pancia più avanti mi fa vedere come nel momento in cui crea l'ad eternum dall'ombelico il ventre mano a mano si sviluppa e c'è questa creatura che evolve come se facesse dei pezzi di vita accelerata insieme a lei perché lei dopo questa sessione avrà veramente un'accelerazione animica che trasferirà alla sua creatura ok avatar vediamo se c'è qualcosa dovrebbe esserci ma non troppo siccome se non ci sono vari pezzi degli uomini come se ogni uomo avesse lasciato qualcosa per esempio che ne so vedo un paio di pantaloni poi vedo una pipa poi vedo un pizzetto ci sono degli occhi maschili che vagano vedo anche un membro maschile no? e so che non appartengono allo stesso uomo sono di uomini diversi un'automobile vedo mi fa vedere questo dentro anziché farmi vedere l'avatar ok dentro l'ufficio questo no 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 assolutamente no no lei non è minimamente più intenzionata mi ha fatto vedere proprio lei molto più grande di tutto questo e con la mano raccimola tutto e butta via dentro al portale definitivo vediamo come fa il secondo ad eternum della sua vita si guarda allo specchio di profilo profilo c'è la mano sul grembo quindi specchio lei con la creatura in grembo si guardano ed è da lì ed è da questo sguardo lei che guarda una nuova sé guarda il proprio futuro ed è questo tipo di energia che crea la d'eternum è impreso di questo la d'eternum benissimo meglio di così si muore questa immagine finale è perfetta nuova vibrazione 812 miliardi 812 sì se non fosse nella creatura se non fosse incinta 200 qualcosa 250 nuova consapevolezza 294 ps adesso 64 quasi invertita con la pietra vite precedenti che il lavoro qua 732 meno della metà bene quando la metà già festeggiamo meno della metà è un grande parte cervello mi fa vedere come progressione la sua gravidanza e anche il suo cervello come i due cervelli suo e della creatura che si sviluppano quasi parallelo no quindi dunque mi fa vedere adesso in questo preciso momento 9.2 poi me lo fa vedere nella progressione per arrivare a 11 e mezzo e poi ancora quando farà questo lavoro con le donne 13 13 wow quanto cosa farà con 13 io lo vedo entrare in connessione profonda con queste donne e vedo che alcune di queste donne possono proprio rappresentare quella fetta di persone che hanno veramente una piena consapevolezza della propria anima e non hanno bisogno di agganciarsi a delle entità che sembrano benefiche salva ci aiutaci ok lolita c'è ancora sia la vita niente entità mentali neanche la 7 abbiamo ripulito tutto un pezzo della 7 non ce lo siamo tenuti non impianti i rettile giaguaro il principe azzurro lucifero con la sua bellezza gli addominali scolpiti e 5 dl ci sono no l'entità mentale collettiva mater allora vedo che lei mi fa segno di no e mi fa vedere lei che sta nuotando in dell'acqua naturale e all'interno di quest'acqua forse anche per effetto ottico dell'acqua vedo la pancia ancora più grande e dice sono io la madre e pasta senza agganciarmi a nessuna entità e perdono mia madre dice io francamente di perdere tempo a rivedere tutto il cinema che fa questo che fa quello quello si taglia baffi quello si pettino i capelli vediamo solo la madre perché francamente gli altri hanno il loro percorso o quello che tu tu vedi degno di nota ci sono dieci ex il marito e i figli ecco fossi figlio ha senso anche padre vabbè vediamoli tutti la madre all'inizio della sessione era venuta con una spada e tutto quello che aveva davanti lo divideva a metà no perché lei nella sua schizofrenia fa così schizzo schizzo meno che significa dividere divideva tutta metà adesso la vedo che è seduta e ha conficcato la spada nel pavimento diamole una vic se la vuole vediamo tutti cinema gadget c'è il marito che piange tanto ed è come se la supplicasse questa vic perché lui c'ha purtroppo questa dinamica così no di essere un po strisciante di mi dispiace per questo uomo deve lavorare tanto ci sono già due figli belli belli in gamba possiamo prendere veramente la vera perla è quella che deve arrivare va bene morena messaggio finale a se stessa sto imboccando la strada giusta tante cose non mi erano chiare mi sentivo obbligata a continuare a fare le stesse cose gli stessi errori ora è come se un velo mi si fosse tolto da davanti agli occhi sto imboccando la strada giusta mi sento molto sollevata e felice bene con queste nuove condizioni fiamma stesso quadro dell'inizio allora l'avete con me chiesto fiamma subito si è concentrata sul bambino e come se a lei adesso c'è questo bisogno di tutto ci sono ok poi tutto può essere tutto cambia oggi questa è la fotografia domani è un altro va bene come la vedi con codini come l'inizio lecca lecca non ricordo come l'hai vista però come una bambina no assolutamente è una donna vedo ai capelli sciolti la vedo sorridente con un sorriso sicuro carina con un abito leggero che le permette di muoversi con scioltezza mi dice adesso tante cose da fare ed ho voglia di fare tante cose devo stare comoda ecco villaggio futuro fotografiare adesso come si prosegue prosegue bene in direzione specialmente come ti dicevo un po più sul femminile con agganci femminili poi per carità e ci sono anche le presenze maschili ma come se lei appunto vorrà percorrere questi approfondimenti nel mondo femminile va bene abbiamo finito